Philips alla Commission di Barcellona rilancia sull'audio presentando una nuova gamma di prodotti caratterizzati da un design molto particolare e destinato ad un pubblico veramente attento alla qualità sonora qui vediamo il modello di punta della serie SoundSphere, la particolarità sono questi diffusori che adesso riusciamo a togliere le griglie, ecco qua, sono diffusori ovni polari, diffondono l'audio in tutta la stanza in modo uniforme, qua sopra vediamo il tweeter agganciato con questa appendice cromata quindi elegante ma anche una soluzione di altissima qualità al centro c'è la base su due telai separati, uno è un DVD player, l'altro è l'amplificatore con il display qua a colori, non è touch però l'interfaccia è molto semplice da navigare come vediamo c'è scritto Streamium, certo e qua c'è una presa, un'antenna per un collegamento wifi Streamium perché questo sistema si collega anche alla rete e ci permette di ascoltare mp3 file audio sia da internet che dal nostro computer e in più grazie a un hard disk che viene fornito in dotazione da 160 giga può anche essere usato come server musicale per i file Grazie mille! Grazie.